Nina Moric e il fidanzato, probabilmente futuro sposo, sarebbero davvero scomparsi come si vocifera su internet e come sarebbe riportato in alcune notizie, ripeto, presenti qui sul web, dove sarebbero finiti la bellissima modella croata e il compagno a mettere in allerta. Il fan sarebbe stata proprio la madre del fanciullo, la quale su Facebook avrebbe chiesto informazioni sulla coppia a chiunque le avesse avvistati. Il messaggio della bella suocera di Nina Moric avrebbe scatenato anche nel web una caccia ai due modelli, con l'hashtag Where is Nina Moric, dove sono state tante le ipotesi sparate sul destino della coppia. All'alimentario è un mistero ancora di più, anche l'ultimo post di Nina stessa pubblicato il giorno precedente a quello della mamma del consorte di Nina Moric. Oggi però, il 14 agosto 2016, un nuovo tassello si sarebbe aggiunto alla sparizione molto misteriosa e quelli che si sarebbero preoccupati per la salute dei due futuri sposi possono stare tranquilli. Sarebbe stata proprio Nina Moric in un ironico video a dire a tutti che lei e il suo compagno stanno bene e che per chi se lo fosse chiesto anche bene, gode di ottima salute. Sta benissimo. Bene, questo sarebbe quanto. Iscrivetevi, commentate. Questo video vuole solo informare eventuali persone. Se in esso fossero presenti delle inesattezze, me ne scuso, in quanto chi vi parla non è un giornalista. Pertanto escludo su di me eventuali responsabilità di qualsivogna natura. Grazie, un caro saluto.